Maxi controlli con cani antidroga in alcune scuole del Valdarno a Retino. Si è trattato di un servizio organizzato con la collaborazione delle direzioni scolastiche e che ha visto gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi e gli operatori delle unità cinofile di Firenze in servizio davanti agli istituti già dalle 7 del mattino. I controlli operati all'ingresso delle due scuole coinvolte, il liceo Giovanni da San Giovanni e l'istituto ITT Ferraris hanno dato però esito negativo. I poliziotti hanno poi effettuato un mirato controllo anche all'interno delle due scuole, trovando 0,2 grammi di hashish ed altrettanti di marijuana nascosti all'interno dei bagni. I controlli antidroga dei poliziotti poi si sono spostati anche in un'abitazione del centro storico di Montevarchi nella disponibilità di un 32enne di origini nigeriane. Gli agenti nel corso della perquisizione hanno trovato così tre involucri di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in una plafoniera della cucina e in un contenitore in metallo riposto in una mensola della camera da letto, dove i poliziotti hanno trovato anche un grinder, strumento solitamente utilizzato per raffinare e spezzare la sostanza stupefacente. In tutto gli agenti hanno sequestrato oltre 100 grammi di droga. L'uomo già condannato per detenzione spaccio di sostanza stupefacente è stato infine denunciato dai poliziotti di Montevarchi.